Carissimi fratelli e sorelle, gioia e pace in abbondanza a tutti voi, la grazia del Signore oggi risplende nella Chiesa celebrando la festa, la solennità di Cristo Re. La Chiesa oggi celebra questo mistero grande che c'è tutta la storia umana, con tutte le sue povertà, le sue violenze, i suoi peccati, a una conclusione, la conclusione del regno di Gesù Cristo, cioè il regno dell'amore, il regno della santità, della verità, della luce. E questo non è un'utopia, questo non è un'idea che gli uomini si sono creati per stare meglio, per deludersi, perché in realtà avviene così, il figlio di Dio si è fatto uomo, ha veramente preso una carne simile alla nostra e ha vinto il peccato della carne e ha vinto la morte, e ha sconfitto Satana che ha indotto l'uomo al peccato e lei ha condotto la morte e ha instaurato il suo regno che è il regno di pace e di giustizia, regno di amore, di verità, di santità, di luce, di bontà, è il regno di Gesù Cristo. C'è il male nel mondo, c'è tanto male e questo male è destinato a finire, questo male è destinato a scomparire. E anche la natura, la terra che ci circonda è destinata ad essere rigenerata, rinnovata, ripeto, questo non per velleità o per consolazione, è quanto Gesù Cristo ci ha rivelato e l'ha messa al centro della sua missione, l'instaurazione del regno di Dio. E infatti ogni volta che il regno di Dio si instaura in un cuore, vediamo la rinascita a vita nuova e a volte tante malattie anche scomparire di fronte alla potenza di Gesù Cristo, Signore. E la Chiesa quindi oggi, al termine dell'anno liturgico, durante il quale ci ha fatto celebrare il mistero di Gesù Cristo, nostro Signore Salvatore, Figlio di Dio, vero Dio, vero uomo, ci fa celebrare questa conclusione al termine di tutto perché la terra non avrà una durata eterna, tutto ciò che è materiale è destinato a finire, a scomparire, così anche la vita dell'uomo su questa terra non sarà eterna, non può essere eterna. E la scrittura ci parla in maniera chiara, ci parla anche della conclusione dove colui che è, che siede sul trono e l'agnello che è stato immolato triunfano su ogni male che c'è nel mondo. E allora la Chiesa oggi si fa celebrare questo mistero d'amore, questa verità che deve stare davanti agli occhi di ogni credente, che Gesù Cristo è il Signore a gloria di Dio Padre. E nella prima lettura di oggi, Signore, la figura di se stessa un pastore, ma un pastore innamorato delle sue pecore che si prende cura di loro. E dice il Signore, verrà un giorno in cui io stesso cercherò la mia pecorella smarrita, curerò la malata, facerò le ferite, ricondurrò la perduta. Perché questo? Perché io sono il pastore del mio greggio. Questo greggio è stato affidato a degli uomini che non l'hanno nutrita a dovere, anzi l'hanno sfruttato. Hanno spelato le pecore per guadagnare, ma non le hanno curate, non le hanno difese. A te mio greggio, dice il Signore, ecco, io giudicherò fra pecore e pecora, fra montoni e capri. Cioè farò giustizia, metterò ordine. E perciò nel Salmo responsoriale la Chiesa ci fa proclamare oggi nel Salmo 22, 23. Signore, il mio pastore, non manca di nulla. E questa è una grande verità. Il Signore è il mio pastore e non ci fa mancare di nulla perché è un pastore che è entrato nella vita eterna. E questo pastore conosce queste vie, non soltanto in questo mondo, ma conosce le vie dell'immortalità, della gloria. E camminando con Lui non ci perdiamo. Guardiamo quanti santi hanno raggiunto la gloria, fratelli, e quanti manifestano la loro gloria insieme a Gesù Cristo, operando prodigi nel Suo nome. Perciò il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare. Ad acque tranquille mi conduce. Rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino, a motivo del Suo nome. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Trabocca di che? Trabocca di grazia e di letizia. Sì, bondà e fedeltà. Mi saranno compagni tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghissimi giorni. Ecco il pastore grande che Dio ci ha dato il figlio suo, che si prende cura di questo cregge. Perciò se tu ti sei perduto sappi che viene a cercarti, se sei caduto sappi che viene a rialzarti, e se hai peccato sappi che si prende la tua colpa, va in croce per amore e muore per te. Questa verità ti deve stare dentro. Ti deve permeare la mente, il cuore, la vita. Tu agli appartieni. Il Padre ti ha affidato a Lui. E Lui si lega da te con un patto eterno d'amore che nessuna colpa al mondo, per grave che sia, potrà mai spezzare, perché è stato sigillato nel sangue del Figlio di Dio, che è amore eterno. Nella seconda lettura l'Apostolo Paolo ci mette davanti al mistero di Gesù Cristo, che dice se entrate il peccato nel mondo a causa di un uomo, a causa del mondo, a causa di questo nuovo uomo, Gesù Cristo, tutti riceveranno la vita eterna. E Cristo Gesù è risorto come primizia di coloro che risorgono. E Lui deve regnare, fino a che ogni cosa sia sottomessa ai Suoi piedi, e verrà un giorno che consegnerà il Regno al Dio Padre. Questo Regno è già stato instaurato, ma ancora c'è lotta. Questo Regno non si è ancora diffuso in ogni cuore, in ogni luogo della terra. C'è un cammino, c'è un'opera da compiere, e questo Gesù Cristo lo sta compiendo. L'ultimo nemico, dice, sarà la morte. E quando tutto gli sarà stato sottomesso, anche il Figlio sarà sottomesso. A colui che gli ha sottomesso ogni cosa, ecco la motivazione. perché Dio sia tutto in tutti. Oggi il peccato si sta diffondendo, fratelli, per cacciare Dio da questa vita, da questo mondo, per restaurare il Regno di un altro Dio. Ma tutto è destinato a essere sottomesso a Lui, che viene non con la potenza delle armi, delle bombe atomiche, viene con la potenza dell'amore, con la forza dello Spirito Santo, viene con la potenza dell'umiltà, la grandezza dell'umiltà, della sottomissione. Si è fatto l'ultimo degli uomini. Da ricco che era, si è fatto povero, per arricchire noi, ci dice la scrittura. E nell'Evangelo ci si presenta la scena del giudizio universale, che non ci deve trarre in inganno, fratelli. E' una figura, questa del giudizio universale, perché il giudizio c'è, ma il giudizio avviene alla maniera di Dio, avviene alla maniera del figlio di Dio. Quando un papà vede che il bambino sta andando a scuola, e ha la maglietta tutta sporca, dice alla moglie, guarda che questa è sporca, guarda che va pulito. Qual è il provvedimento? La correzione. Qual è il provvedimento? La soluzione. Non la rovina del bambino. così il giudizio di Dio è sempre rivolto alla gloria del Padre che vuole bene dei Suoi figli. E quindi il male che affligge l'uomo deve essere sconfitto, distrutto, e questo male si configge facendo entrare la misericordia di Dio, facendo entrare la Sua benevolenza. naturalmente l'uomo, fratelli, ha un libero arbitrio, ha uno spirito, può permettersi anche di ribellarsi, di rifiutare, ma Dio non gli rifiuta la Sua grazia. Anche ieri, sfogliando un'opera di Santa Caterina da Genova, che ebbe della rivelazione sul purgatorio, a un certo punto mi sono imbattuto in questa frase che ritroviamo in Santa Caterina da Sina, la ritroviamo in Sant'Antonio di Padova, che dice la misericordia di Dio trionfa, risplenda anche nell'inferno. Cioè Dio non odierà mai nessuno, neanche chi l'ha messo in croce, neanche chi l'ha bestemmiato, neanche chi lo sta combattendo. L'uomo si ribella contro Dio che gli risponde con l'amore, con la misericordia, e la potenza, la legalità di Gesù sta nella potenza di quest'amore. Signore Gesù, oggi fa risplendere nell'umanità intera la tua regalità, la tua sovranità. Vieni a regnare in mezzo agli uomini, vieni a regnare con la tua umiltà, con la tua ricchezza d'amore, col tuo perdono, con la tua misericordia, con la tua dolcezza, con la tua delicatezza, con la tua gentilezza. Come si dice, ricorda sempre Papa Francesco che tu sei venuto con la tenerezza, e lui ci parla sempre dalla tenerezza di Dio, che di fronte ai suoi figli si commuoti con passione, come tu ci dici per bocca del profeta, ossia, io sono Dio in mezzo a te, sono il Santo in mezzo a te, non verrò nella mia ira, ma nella mia tenerezza, grazie Signore, oggi fa risplendere questa ricchezza di grazia in mezzo a tutti gli uomini, perché il cuore dell'uomo ha bisogno di te, e tu Vergine Santissima che accompagni il figlio tuo, poiché hai partecipato alla sua passione, quindi partecipi oggi alla sua gloria, fa risplendere la tua tenerezza di madre, davanti a cui nessun uomo sa resistere, tu sai toccare i cuori con la gentilezza della tua grazia materna, sai toccare i cuori con lo Spirito di Dio che regna in te, ed vieni a regnare con Gesù tuo figlio, nostro Signore, e conduci tutti gli uomini a Cristo Gesù, Signore e Salvatore, perché tutti abbiano a conoscere la ricchezza della sua grazia, l'onnipotenza della sua misericordia, a Lui gloria, onore, potenza e benedizione per tutti i secoli e i secoli, amin. Angeli del Signore, benedite il Signore, e voi tutti i suoi santi, date gloria a Gesù, Re e Signore della gloria, alleluia, 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 e la gloria del Signore oggi, fratelli, risplenda su tutti voi, amin.